Un computer o un cellulare? Entrambi Sei social dipendente? Sì sì Quante ore usi il cellulare al giorno? È assai per lavorare Ah ma perché abbreviazione è una parola così lunga? E non te la so dire Saluta tutti i tuoi follower con l'alfabeto farfallino Non lo so, ciao ciao Ci fia qua o fu